Per realizzare anche questo come impresa abbiamo bisogno comunque di rette, di collaborazione con altri perché ci sono dei vincoli tante volte tecnologici, tante volte anche economici e tante volte il trovarsi con gruppi, con altri riesce a fare superare questi vincoli che non ci impediscono di vedere la realizzazione di certi obiettivi. Tutto quanto basato su una cultura del riciclo e del rispetto dell'ambiente stiamo creando un modello che sia esportabile come è emerso prima dagli elementi distintivi quindi l'obiettivo è di reperire i materiali di scarto dalle aziende e dai privati per poterlo diciamo lavorare come materia diciamo nostra. Cioè il fatto che noi comunitiamo un valore, cioè il valore di un oggetto particolare di design legato al territorio, alla cultura, all'evento locale e... 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 e...